Autore emergente del panorama fumettistico italiano contemporaneo, Miguel Vila ha scritto e disegnato tra il 2020 e il 2021 due opere che hanno riscosso un buon successo sia tra la critica che tra i lettori. Le graphic novel Padovaland e Fior di Latte, entrambe pubblicate da Canicola Edizioni, ritraggono il Veneto e i Veneti del Terzo Millennio, consegnandoci un ritratto amaro in cui emerge su tutto una provincia spersonalizzante in cui gli umani si lasciano vivere, sognando un altro mondo che non esiste. Padovaland, opera di esordio, deriva il suo nome nella realtà da un agghiacciante parco acquatico che sorge in piena zona industriale. Il concetto stesso di osi del divertimento tra capannoni, parcheggi e fumaioli dovrebbe dirla lunga sui problemi di questa regione. Vila ne comprende la tragica ironia involontaria e la usa per definire una città, quella di Padova, che lentamente e inesorabilmente estende i suoi confini inglobando anche la provincia, e anche se l'opera è di fantasia. Ricordiamo che il Patre V, ovvero l'area metropolitana che aggrega Padova, Treviso e Venezia, crescendo di anno in anno, è ormai un unico soggetto urbano e complessivamente ha una popolazione che supera i 2 milioni e 700 mila abitanti. Padova come Los Angeles, quindi? No, nemmeno per sogno. Perché se la metropoli della West Coast è una terra spietata, ma al contempo patria dei sogni cui l'inebriato di cultura occidentale può e deve aspirare, l'interlampatavino è una povera repubblica dello spritz in cui affogare il nulla di cui è composta con innumerevoli e interminabili aperitivi atti solo a distruggere i fegati col campari. Il ritratto corale che Vila mette in tavola infatti non risparmia nessuno dei suoi protagonisti. Irene ha abbandonato l'università per lavorare come commessa in uno dei tanti mostruosi centri commerciali. Accetta la corte del collega più anziano più per noia che per combattere il vuoto della propria vita. Il fratello, che oscilla tra i 20 e i 30 anni, è innamorato dell'amica Katia, ma più coerentemente dovremmo dire che è innamorato del suo profilo Instagram che spia con una certa morbosità a ogni ora del giorno. Katia, a sua volta, si lascia andare a scatti maliziosi e naif guidate da una insoddisfazione del proprio corpo, ricercando nel mondo dei social un benessere mentale che poi la porta a darsi a corteggiatori celtroni. Infine Giulia, che per certi versi rappresenta una specie di estensione dell'autore, gira per le strade del Veneto fotografando silos, canne fumarie, villette, fontane, per un progetto che viene perennemente bocciato dal proprio docente alla facoltà di architettura perché fuori contesto. Il punto è che il Veneto di Vila è fuori contesto, una regione fuori contesto che nasconde l'anima contadina e provinciale sotto una patina di modernità, risultando un inquietante sepolcro imbiancato. L'incipit dell'opera è folgorante in questo senso. Chiunque, come qui presente assente, stia vivendo o abbia vissuto nella locomotiva Veneta, non può istantaneamente non riconoscere la veduta aerea di quelle terre così geometriche, così razionalizzate da sembrare irreali. Lo spazio è protagonista seme agli altri personaggi, tra complessi commerciali, villette in cui far festa fino al coma etilico, enormi pizzerie finto rustico da domenica sera e ville paladiane abbandonate. Specchio di questo territorio contraddittorio alienato sono i suoi abitanti, che sembrano moderni ma che risultano essere sclerotizzate immagini del passato. Nelle commedie del Goldoni c'erano le contadinotte corpulenti e i seduttori malandrini? Ora ci sono le commesse con i loro generosi decoltè e i latin lover da strapazzo, tristi come le loro tecniche di approccio. Ma se in una commedia goldoniana il desiderio stimolava l'arguzia, qui invece lo sport più praticato è la rinuncia al primo fallimento, o alle volte, ancora prima di averci provato. D'altronde un profilo digitale non può dirti di no. Una bottiglia ha come unico impedimento il tappo che ne serra il collo e quindi perché affrontare un rischio se tutto ciò che serve per consolarsi è a portata di mano. Alla fine l'aspetto più tragico di Padovaland è il nulla che accade inesorabile. Ancora più tragicamente goldoniana è la graphic novel successiva, ovvero Fior di latte, che dell'opera precedente sembra la naturale prosecuzione con una storia evidentemente ambientata nella stessa provincia narrativa. L'area urbana fa emergere dai suoi tentacoli il comune immaginario di Bessaniga, che ha tutto quello che serve a un borghetto veneto. La piazza, la colonna con leon, il baretto sotto i portici, la statua su cui i gradini le coppiette limonano felici e un castello, segno di una grandezza storica di quando il mondo era molto più piccolo di adesso. Marco è fidanzato con Stella, giovane, carina e di buona famiglia, ma sviluppa un interesse morboso per Ludovica, banconista della gelateria Fior di latte in centro del paese. Ma il fior di latte che interessa al nostro Marco non è certo quello del gelato, quanto quello che gli enormi, esagerati, seni di Ludovica si cernono ancora dopo la recente gravidanza. La gelataia è l'apoteosi della conta di notta di racconti popolari. Apparentemente ingenua, sdentata, con una pettinatura che dovrebbe renderla moderna ma la fa ancora più improbabile, non si esprime bene in italiano e anche con il dialetto non se la cava poi tanto meglio. Ciò nonostante è l'oggetto del desiderio per il giovane annoiato Marco che, stanco della normale vita di coppia con la fidanzata, cerca l'insolito, il proibito, la trasgressione di un rapporto carnale contro ogni logica ed estetica attuale. Quella di Marco in un primo momento potrebbe sembrare una sana ribellione. Eppure, alla lunga, notiamo che anche le perversioni, che un tempo definivano un aspetto unico delle persone, ormai sono tag da catalogo per le piattaforme di internet e quindi etichetta mercificatrice a cui appigliarsi. Rispetto alla graphic novel precedente, Vila mette sullo sfondo l'ambiente e il rapporto con l'immagine di sé per concentrarsi sulle storie e sulle persone, facendo emergere maggiormente un aspetto già presente in Padovalent, ovvero una sessualità triste e dolorosa, senza godimento e senza il felice donarsi all'atto. Il sesso è una merce di consumo che non provoca soddisfazione, anzi, un espediente da cui trarre magari qualche soldo o una fuga da una realtà in cui non ci si riconosce. Da un punto di vista stilistico, il segno di Vila è netto, sicuro e pulito. Le vedute delle case sembrano progetti urbanistici da presentare in consiglio d'amministrazione per l'approvazione dei lavori. Alcuni lo paragonano a Chris Ware, per questa caratteristica unita a una concezione della griglia delle vignette scontornata e multiforme. No, Vila con Ware non c'entra. Nelle opere dell'americano la struttura della pagina è essa stessa una componente narrativa che alle volte può essere letta in ordini diversi, aprendosi ad altre storie. Ware è arte sequenziale all'ennesima potenza, in cui è proprio il modo in cui sono disposte le vignette a creare un disegno maggiore. Con questo non voglio dire che Vila non sia meritevole, ma è un'altra cosa. In Ware l'ossatura conta più della materia, ne consegue che i protagonisti non sono attori, ma agiti, figure umane semplificate che subiscono una struttura algida, spersonalizzante e tragica. Al contrario, Vila disegna corpi di cui è immediatamente percepibile tutta la materialità. Le pieghe del collo, i doppimenti, le rasature dei tagli di capelli, i peli, i forungoli, le vene, i nasi rossi, i nei. I protagonisti di Padovalende e Fior di Latte sono fantocci sgraziati, nel loro look ridicolmente in linea con le tendenze modaiole. La metropoli è venuta a prenderci. Ci veste dei suoi vestiti, ci fa bere i suoi drink e ci nasconde sotto valanghe di foto felici, sorridenti e soddisfatte. Le foto, non noi.